Allora, come dicevo, ci avviciniamo alla fine del corso e quindi cominciamo un po' a pensare quelle che sono le ultime lezioni, come vengono organizzate e quali argomenti ci mancano. Guardiamo solo rapidamente insieme il calendario delle prossime settimane, poi entriamo chiaramente nei dettagli pro esame più avanti, con più calma e con più dettaglio, però cominciamo a preoccuparci diciamo così di che cosa succede a breve. Allora, sul sito ho aggiornato il calendario, oggi siamo al 10 maggio, quindi oggi iniziamo l'argomento delle simulazioni ed eventi, siamo con un pochino di teoria e poi un primo esercizio e questo è l'ultimo macro argomento del corso, quindi alla fine i macro argomenti d'esame sono chiaramente l'uso dei grafi, la lettura del database, la ricorsione e le simulazioni che è l'ultimo argomento che ci rimane. Sui grafi rimangono ancora un paio di lezioncine da fare sui cammini minimi, sui cicli, ma le inseriremo più avanti perché non ci sono di ostacolo per quanto riguarda gli altri esercizi che faremo. Mi è piaciuto anticipare l'inizio delle simulazioni, essendo l'ultimo argomento e avere così un pochino di tempo in più per poterlo digerire in un certo senso. Vabbè, domani ci sarà il solito laboratorio 9, squadra in presenza e squadra in remoto e l'esercizio di mercoledì alle 13, questa settimana è normale. La settimana prossima anche è normale, la settimana del 17, quindi avremo la lezione dove vedremo uno dei due argomenti rimanenti sui grafi e andremo avanti sulle simulazioni, vedete che qua c'è l'esercizio sulle simulazioni e anche mercoledì è l'esercizio sulle simulazioni e ci sarà il laboratorio 10, sempre qua con la divisione in presenza e in remoto, ricordatevi sempre di prenotarvi, è per la squadra in presenza. E questa è l'ultima settimana, diciamo, tra virgolette normale. Poi la settimana del 24 e la settimana del 31 invece sono diverse. Allora, innanzitutto, vabbè, il 24 finiremo l'ultima lezione che ci serve sui grafi, ma questo non è nulla, e da qua in avanti non spiegheremo più nulla di nuovo, quindi praticamente prevedo con lunedì 24 di finire tutti quelli che sono gli argomenti del corso, il 24 maggio. Da lì in avanti faremo solamente più esercizi in vista dell'esame, quindi vedete che nelle lezioni, nelle ore di lezione c'è scritto temi d'esame, temi d'esame, temi d'esame, eccetera, e basta, niente di più. In più, non è solo esercizi fatti in vista dell'esame, in cui andremo a prendere magari qualche esercizio, forse uno o due dell'anno scorso, ma faremo delle cosiddette simulazioni d'esame. Simulazione d'esame significa per noi comportarci esattamente come all'esame reale, quindi con le stesse modalità di sorveglianza, con lo stesso tempo, con la stessa tipologia di esercizio e così via. Faremo due simulazioni d'esame, una farà il 26 maggio nelle ore del laboratorio, è un mercoledì, quindi quella settimana, il martedì non ci sarà il laboratorio in presenza, perché dovremmo essere tutti online per fare la prova d'esame, visto che l'esame sarà online, anche la simulazione d'esame la faremo solo online, quindi il 25 non c'è il laboratorio in presenza. E la seconda simulazione d'esame è prevista per il primo giugno, questa volta è martedì, ma quel martedì lo faremo in remoto, anche lì perché dover fare la simulazione d'esame la dobbiamo fare in remoto. Non la possiamo fare mercoledì perché è il 2 giugno, è festa. Allora, fatemi sapere poi, se questo, c'è ancora tempo, quindi ragionateci, se questo vi crea dei problemi, cioè dover fare la simulazione d'esame in remoto dalle 10 alle 13, se vi crea dei problemi per le altre lezioni di quella giornata. Se vi crea problemi, qualche cosa ci inventiamo, in qualche modo, se altre lezioni della giornata dovete essere in presenza e qua la simulazione la dovete fare in remoto, io non so esattamente quale sia il vostro calendario e cosa sia previsto negli altri corsi, quindi è il limite, mi fate sapere e cerchiamo di trovare una quadra. Purtroppo il 2 giugno cade di mercoledì e quindi non possiamo sfruttare l'orario solito del laboratorio in remoto. Le lezioni rimanenti saranno dedicate chiaramente alla risoluzione insieme delle simulazioni d'esame, quindi la simulazione del 26, di mercoledì 26, la risolveremo insieme lunedì 31, così come la simulazione del martedì 1 giugno la risolveremo insieme lunedì 7 giugno. Dopodiché fine, nel senso che il martedì e il mercoledì dell'ultima settimana del corso non ci saranno lezioni, quindi nel laboratorio finiamo con le due simulazioni d'esame, non ci sarà un tredicesimo laboratorio e non ci sarà la lezione del mercoledì finale, quindi prevediamo di finire tutto lunedì 7 giugno. Quindi questo è ciò che ci manca come calendario, diciamo così, punti fermi sono la fine del programma lunedì 24, da qui in avanti solo esercizi d'esame, in particolare queste due simulazioni d'esame, numero 1 e numero 2. Per l'esame non useremo Respondus, ma useremo semplicemente Zoom, Zoom che avete già tutti installato, chiaramente perché ci abbiamo fatto l'intero corso, in una modalità attraverso la quale voi dovrete tutti condividere lo schermo contemporaneamente, ok? Quindi noi facciamo, diciamo così, sorveglianza all'esame, semplicemente chiedendovi di tenere microfono webcam aperti e di condividere lo schermo di ciò che state facendo. Quindi noi in qualunque momento possiamo vedere il desktop di ciascuno di voi e quindi anche verificare che non facciate cose che non sono permesse e l'unica cosa che non è permessa all'esame è comunicare, comunicare con altri, ok? Quindi è permesso consultare appunti, è permesso andare su GitHub a vedere progetti vecchi fatti da noi, fatti da voi, è permesso cercare su internet, su Google, su Stack Overflow, sulla documentazione, potete lavorare normalmente con internet, l'unica cosa non dovete, diciamo così, cercare di comunicare tra di voi. Per il resto si svolge tutto, spero, nella massima tranquillità, senza particolare ansie dovute a Respondus o diavolerie del genere, perché semplicemente in quelle due ore voi lavorate sul vostro computer come avete sempre fatto, con in più questa videochiamata accesa e noi che in qualche modo possiamo controllare sia ciò che state facendo attraverso la telecamera, sia ciò che state facendo sul vostro desktop. Se si hanno schermi multipli, normalmente Zoom lo permetterebbe, ma in questa modalità di condivisione multipla non lo permette, quindi quello che vi chiederemo è di disabilitare i secondi schermi, lavorare con uno schermo solo, in modo che noi lo possiamo controllare. Questa è l'unica, diciamo così, handicap che purtroppo vi dobbiamo dare per una limitazione di Zoom che non permette a voi di condividere contemporaneamente i due schermi, quindi a noi di controllarli. È l'unica, diciamo così, difficoltà a cui non siamo riusciti a trovare una soluzione. Per il resto, appunto, niente Respondus, niente exam, niente cose complicate. Faremo all'inizio, come vi dicevo, poi torniamo su questi dettagli, no? All'inizio del corso faremo un appello, controlleremo ciascuno di voi, che vi chiamiamo, diciamo così, in ordine alfabetico, ecco, chiedendo di far vedere la tesserina e di attivare telecamera, microfono e desktop, che da quel momento fino alla fine devono essere sempre attivi. Vi daremo un progetto base, così come facciamo per il laboratorio, usando uno strumento che si chiama GitHub Classroom, quindi è un meccanismo un pochino più automatizzato per creare dei progetti, quindi noi vi pubblicheremo un link a cui dovete andare, vi scrivete e attraverso questo link vi verrà automaticamente fatto il fork del progetto su cui dovete lavorare. Durante le due ore voi lavorate tranquillamente nel progetto, fate commit, non lo fate, come preferite, mi suggerisce sempre quello di farlo spesso, soprattutto sui punti intermedi del lavoro, e alla fine delle due ore, sono due ore di tempo per la prova scritta, per la prova di programmazione, dovete fare un push del lavoro che avete svolto, ok? Su questo repository. A quel punto, diciamo così, la prova di programmazione finisce, la consegna avviene su GitHub, praticamente, quindi anche qui, in tutto questo corso useremo solamente Zoom e GitHub, come abbiamo fatto, diciamo così, nel resto del corso. Dopodiché, dopo la consegna, nell'esame, non nelle simulazioni perché non abbiamo tempo, ma nell'esame vero, poi a quel punto vi potete scollegare, scollegare la webcam, scollegare il desktop, siete liberi perché avete consegnato, e a quel punto vi chiamiamo 1 a 1, per vedere il programma che avete fatto, far la verifica, soprattutto la verifica di funzionalità del punto 1, che sapete che è necessario per avere la sufficienza. Quindi vi chiamiamo 1 a 1, e semplicemente a quel punto vi chiediamo di condividerci il vostro computer, quindi voi lasciate Eclipse aperto, tranquillamente dopo la consegna facciamo 10 minuti di pausa, così potete alzare, fare un giro, prendere un caffè, andare in bagno, quello che volete voi, e poi vi chiamiamo 1 alla volta, ci condividete il desktop e quindi noi prendiamo il controllo del vostro computer e facciamo 2 o 3 clic, insomma, verifichiamo il funzionamento del programma. A quel punto se il programma non funziona, quindi se il punto 1 non funziona, l'esame non è superato, se il punto 1 funziona, allora a questo punto vi diamo un voto, un punteggio preliminare per il punto 1, e poi nei giorni successivi chiaramente correggeremo il punto 2, vi daremo poi il punteggio finale. A quel punto non c'è bisogno di consegnare nulla, perché in realtà il progetto è già consegnato su GitHub, quindi semplicemente noi ci segniamo che quello è sufficiente, è da verificare e quell'altro invece non è sufficiente. La cosa buona è che il giorno stesso dell'esame voi sapete se l'avete superato o no, se l'avete superato magari non sapete del voto definitivo, se avete il voto minimo che è quello che avete preso dell'esercizio 1, chiaramente tutto ciò che avete fatto di buono nell'esercizio 2 si andrà poi a sommare, quindi voi saprete non l'ho passato oppure l'ho passato almeno con X. Ci saranno più turni di laboratorio perché siamo in tanti, siete in tanti e quindi non sarà un orario unico, quindi l'orario che è pubblicato sul portale non fa fede, noi useremo tutta la giornata probabilmente, ci sarà un turno probabilmente intorno alle 9, uno intorno alle 12, 13 e un altro intorno alle 16, quindi ci fossero anche alcuni di voi che hanno delle sovrapposizioni con esami particolarmente esoterici, le prime sovrapposizioni siamo già riuscite a risolvere, ma come magari di nicchia, noi riusciamo sempre a giocare abbastanza sull'orario dei turni, quindi spostandovi da un turno all'altro, quindi questo gioco si ripeterà probabilmente 3 volte nella giornata con 3 esercizi diversi, sostanzialmente diversi l'uno dall'altro. Mario mi chiedeva se terrete il microfono acceso, la richiesta sarebbe quella di tenere il microfono acceso e quindi noi dobbiamo ascoltarci tutti i rumori che capitano in strada, da casa di tutti voi, i cani che abbaiono eccetera, potete tranquillamente abbassare il volume, quindi voi potete non essere disturbati, però noi dobbiamo monitorare ciò che succede nell'ambiente. L'Ara ci darete uno screen di esempio? Sì esatto, infatti abbiamo cominciato a dare questi screen di esempio con gli esami dell'anno scorso, perché ci rendevamo conto che magari in presenza, facendo l'esame in aula era più facile magari dare un'occhiata a quello che facevate, invece in remoto era più difficile per voi riuscire a capire se stavate facendo la cosa giusta, quindi proprio dall'anno scorso agli esami abbiamo cominciato ad inserire questi esempi che saranno parte del testo d'esame. Ovviamente noi vi prepariamo alcuni esempi che mettiamo nel testo, altri che useremo noi per verificare se funziona anche in altri casi che non siano strettamente questi. L'esame è segnato per 14, ignorate l'orario, quello che fa fede è la giornata, poi in funzione di quante persone vengono noi li dividiamo e decideremo quanti turni fare. Tenete presente che siamo tre docenti, riusciamo ad andare avanti con tre gruppi in parallelo, però con una sorveglianza di questo genere i gruppi saranno da 25, massimo 30 persone che ciascuno di noi riesce a guardare in parallelo. Meglio 25 perché riesci effettivamente a vedere cosa fanno e anche rispondere alle domande perché tante volte appunto potendo vedere che cosa fate dentro Eclipse, nel vostro codice riusciamo anche più facilmente a darvi una mano, a sbloccarvi se vi trovate in situazioni un po' critiche. E quindi grosso modo 25 per 3 fa 75, se siete più di 150 dobbiamo fare tre turni, una cosa di questo genere. Due o tre turni a seconda di quanti si prenoteranno in ciascun appello. Questo lo sapremo due giorni prima, tre giorni prima, perché voi sapete le prenotazioni si chiudono pochi giorni prima dell'esame, una volta chiuse le prenotazioni noi tiriamo giù l'elenco e cerchiamo di capire come organizzarsi in termini di turni. Quindi l'orario che c'è scritto sul portale non guardatelo, in quella giornata vi daremo gli orari, cercate di tenervi liberi per tutta la giornata, un paio di giorni prima vi daremo gli orari effettivi in cui ciascuno di voi dovrà partecipare, in quale turno ciascuno di voi dovrà partecipare. Tenere cuffie auricolari non so che cosa vi possa servire, in realtà perché non dovete ascoltare nulla, quindi a meno che non siano per proteggervi da rumori esterni, questo in realtà è un po' critico perché noi non abbiamo idea di che cosa possiate ascoltare, quindi se sono scollegate da tutto è un conto, se invece sono collegate a qualcosa non abbiamo nessuna modalità di controllo per questo. Giuseppe mi chiede non ho capito se con questa modalità doppia fare un unico push finale, no potete fare tutti i push che volete, tranquilli, a noi però interessa solamente l'ultimo chiaramente, però se per vostra tranquillità volete fare, anzi è consigliato, nel senso che a un certo punto c'è una parte che ti funziona, fai un bel push, poi quella lì non te la leva nessuno, se poi vai avanti e fai casino sai che comunque quella lì c'era una versione funzionante. Ovviamente in fase di correzione andremo a vedere qual è stato l'ultimo push che avete fatto prima della scadenza del tempo. Le comunicazioni? Sì, essenzialmente sì, possiamo usare la chat, possiamo sì, essenzialmente il zoom ti dà un piccolo pop up se qualcuno scrive un messaggio in chat, normalmente comunicazioni da parte nostra durante l'esame tendiamo a non darne, nel senso non pervi le scatole, cerchiamo di avere, siamo più a disposizione per rispondere alle vostre domande. Comunque lo scopo delle due simulazioni è proprio quello di, diciamo così, fasarci, allinearci su quelle che sono le modalità d'esame. Se faremo due simulazioni che non sono solamente un esercizio simile a quello dell'esame, ma le modalità esattamente come quelle dell'esame e così tutti questi vari dettagli, così pratico, logistici, li proviamo anche sulla nostra pelle durante queste due settimane, in modo da arrivare all'esame tranquilli sulle modalità di funzionamento di zoom con la visione del schermo, sulla modalità di consulenza, sulle modalità di uso di questo GitHub Classroom che appunto è il meccanismo attraverso cui vi viene creato e forcato automaticamente il progetto e quindi noi possiamo andare a vedere tutti in un unico repository con i permessi già di scrittura per poterlo vedere. Ci teniamo parecchio che voi partecipiate, proprio per evitare di avere qualcuno che arriva all'esame senza aver provato queste simulazioni, quindi non sa bene come comportarsi, anche in toppi stupidi possono mandare in palla o possono rallentare il tempo, quindi ci crediamo molto sull'utilità di questo per arrivare all'esame con l'unico requisito in più che è quello di sapere fare le cose, tutta la parte tecnico-logistica ce la siamo già vista prima, abbiamo già affrontato e risolto tutti i problemi che ci possono essere prima. Come dicevo, quando saremo più vicini, quindi tra un paio di settimane, entriamo più in dettaglio anche proprio sui requisiti tecnici, sulla parte di GitHub Classroom, come funziona, eccetera eccetera, per poter, anche sui tempi necessari, documenti, eccetera eccetera. Ma qui volevo solo darvi un primo flash di quello che succederà, dirvi appunto quali sono gli strumenti che ci servono per l'esame, gli strumenti che vi servono per l'esame sono semplicemente vostro computer con Eclipse, Zoom e basta. Per quanto possibile, se voi per caso abitate in una zona in cui c'è una connessione di rete non particolarmente buona, ricordatevi che durante l'esame dovrete condividere la telecamera e anche il desktop e quindi chiaramente la rete viene abbastanza sollecitata. Quindi non siamo in zona rossa e il mio suggerimento è se state in una zona in cui c'è una connessione di rete scarsa, magari fatevi ospitare da qualcuno, qualche amico, qualche conoscente, qualche azienda, eccetera, in cui siete sicuri che almeno per quelle due ore la rete tiene bene e quindi dobbiamo solamente preoccuparci di fare esercizi e non di riavviare la chiamata tre volte perché la rete è troppo lenta. Ok, lo sappiamo con un mese e più di anticipo, cercate di organizzarvi anche su questo aspetto. Ok, il tetano USB, sì potete avere, se puoi trovare un cellulare collegato USB o anche l'hotspot locale, purché chiaramente quella connessione cellulare sia abbastanza stabile. Tipicamente devi attaccare, ricordati di tenere il telefono in carica e che ci sia una buona rete e una buona copertura nella zona in cui siete, quindi anche mobile va bene. Fatevi vedere le vostre prove, appunto, durante le simulazioni facciamo le nostre prove e vediamo se ci sono dei problemi oppure no. Ok, se non ci sono altri dubbi su questa parte, diciamo così, più amministrativa, io passerei a introdurre l'argomento di oggi, che è quello delle simulazioni ad eventi discreti, a cui arriveremo tra un attimo, prima però abbiamo bisogno di familiarizzarci o fare la conoscenza con una nuova struttura dati, che è una variante, diciamo così, un pochino più intelligente delle liste, che prende il nome di code prioritarie, poi quando vedremo le simulazioni ad eventi capiremo immediatamente perché ci servono queste informazioni. Allora, cosa si intende in informatica con una coda? Beh, si intende un insieme di elementi che vengono, diciamo così, inseriti in una struttura dati e poi possono essere, diciamo così, rimangono memorizzati in questa struttura dati, quindi permangono, e poi possono essere estratti in un ordine che dipende tendenzialmente dal momento in cui sono stati inseriti. Quindi la coda più semplice è la coda cosiddetta FIFO, first in, first out, nel senso che quando io estraggo un elemento da una coda, l'elemento che sto estraendo è il più antico tra quelli che erano stati inseriti in passato, quindi il primo che era stato inserito sarà anche il primo che viene estratto. Noi questo lo possiamo fare facilmente con una lista, preferibilmente una lista linkata in cui posso fare un append in fondo dell'ultimo elemento, dell'elemento appena arrivato e invece estraggo, faccio un remove del primo elemento della lista quando ho bisogno di estrarlo, no? Quindi usando semplicemente le liste è facile creare delle code, quindi la coda è un concetto un pochino più ampio, la lista semplicemente contiene gli elementi. Quando parlo di una coda sto immaginando una lista in cui gli elementi fruiscono in un certo modo, first in, first out, oppure, quindi so che non estrarrò mai un elemento a caso ma estrarrò sempre il primo della lista, oppure una coda LIFO o cosiddetto stack, la string first out, quindi ogni volta estraggo l'ultimo che è arrivato, che è ciò che faccio essenzialmente quando faccio ricorsione o quando faccio visita in profondità, l'ultimo che ho messo dentro è il primo da cui parto per fare ricorsione, no? È un altro modo chiaramente di gestire una coda di elementi, il primo che è entrato sarà quello che deve aspettare per più tempo, però è una logica che in alcuni contesti può aver senso. Quindi se dovessimo fare una coda puramente first in, first out, non avremmo bisogno di nulla che già non sappiamo, usiamo semplicemente una lista, tipicamente una linked list, perché nell'array list andrà a spostare gli elementi in là di una posizione, un'operazione che ha complessità inutilmente maggiore. Per quanto riguarda invece altri criteri di gestione di una coda, entriamo nel mondo delle code prioritarie, in cui il criterio di estrazione del prossimo elemento non è solamente in base al tempo di inserimento ma anche in base al valore dell'elemento stesso. Quindi una cosa prioritaria è una cosa in cui io posso inserire degli elementi in qualunque momento e ovviamente posso leggere un elemento per volta, ok? Uno per volta, ne inserisco anche uno per volta e ne estrago uno per volta. Quando estrago un elemento, l'elemento che viene scelto non è né l'ultimo inserito, né il primo inserito, ma è un elemento, diciamo così, in mezzo, che abbia certe caratteristiche, che tipicamente minimizza una certa funzione o massimizza una certa funzione, dipende come prendete i segni, ma diciamo minimizza una certa funzione, è quello che ha la priorità più alta e come priorità di solito usiamo un numero che tende a crescere, a essere sempre più piccolo se la priorità è più alta, per quello si parla di minimizzazione. E quindi tra tutti gli elementi che ho inserito prende il minimo e me lo fornisce in uscita, poi ovviamente lo cancella, la prossima volta che chiederò un elemento in uscita prenderà il minimo successivo tra quelli che c'erano nella lista, a meno che ovviamente non sia arrivato in ingresso un altro elemento che ha un valore ancora più basso e quindi ancora maggiormente prioritario. Quindi l'ordine di uscita degli elementi non è l'ordine cronologico di arrivo, ma è un ordine che dipende dalla priorità, dall'importanza degli elementi inseriti. Se voi andate al pronto soccorso, quello che c'è scritto in 12 cartelli giganti, vi dicono sempre attenzione che l'ordine di chiamata non coincide con l'ordine di arrivo, ma l'ordine di chiamata dipende dall'aggrado di severità, di gravità di ciò che vi è stato etichettato in fase di triage. E quindi ogni volta estraggo il paziente che ha più bisogno urgente, che ha bisogno più urgente di essere visitato, di essere visto a un medico. Quindi se arrivi lì che hai, diciamo così, la classica unghia, è proverbiale unghia incarnita, sei sicuro di aspettare delle ore, perché ti chiameranno solo quando tutti coloro che hanno qualche cosa di più grave, saranno passati. Se invece arrivi, diciamo così, speriamo di no, in arresto cardiaco, è molto probabile che passerai davanti a tutti, ma questo passare davanti è un concetto sbagliato, perché non c'è una lista ordinata e tu la scavalchi, semplicemente tu entri e nel momento in cui entri sei quello che è la priorità più alta e quindi la prossima volta che ci sarà un posto libero immediatamente toccherà te, perché tocca a te non perché sei arrivato prima, ma tocca a te perché hai una priorità maggiore. Come facciamo a implementare una struttura data di questo genere? Uno potrebbe dire, vabbè, una lista, no? Una lista, inserisco gli elementi e poi ogni volta che devo estrarre un elemento da questa lista calcolo il minimo dei valori di priorità degli elementi della lista stessa e una volta che ho questo minimo lo estraggo. Lo estraggo, lo fornisco in uscita e dalla lista ovviamente lo toglierò. Questo si può fare, ha un po' un problema che il tempo di cancellazione di un elemento, ma anche solo di calcolo del massimo, è un tempo o di n, o del massimo o del minimo. È un tempo o di n perché per calcolare il massimo o il minimo di una lista devo scandirmi tutti gli elementi. E poi una volta che l'ho trovato devo estrarlo, nel caso di una array list, estrarre un elemento significa ricompattare la lista, nel caso di una linked list è più leggera come operazione, ma in ogni caso devo prima trovarlo e poi cancellarlo. Quindi mi darebbe delle operazioni una complessità o di n, cosa che magari provo a evitare. Potrei decidere, ma la lista, perché la devo tenere ordinata per ordine di inserimento? l'ordino per ordine di priorità. Allora se io ho una lista di elementi che è già ordinate per ordine di priorità, il primo elemento della lista sarà quello che deve uscire, sarà il prossimo ad essere chiamato. E quindi, diciamo così, è molto efficiente in fase di estrazione. L'inserimento invece non è altrettanto efficiente, perché io ho un nuovo elemento, ho una lista ordinata e non la posso inserire in fondo. Lo dovrò inserire in mezzo alla lista nella posizione opportuna in base del suo valore. E quindi o faccio un'operazione tipo insertion sort, che vado a cercare dall'inizio qual è il primo elemento il cui valore è maggiore o uguale dell'elemento corrente, oppure lo inserisco in fondo e faccio un piccolo algoritmo di ordinamento sulla lista, ma in ogni caso la complessità è almeno ODN anche in questo caso. Ci sono soluzioni più sofisticate, quelle che sono basate su alberi, alberi binari di ricerca, che è una struttura dati che non abbiamo approfondito quest'anno, che mi permetterebbero di dare un tempo di ricerca del tipo logaritmico, ma in realtà poi richiedono delle operazioni abbastanza complicate per evitare che l'albero cresca in modo sbilanciato e quindi il numero di livelli di profondità sia troppo elevato. Ci sono quindi le soluzioni con le strutture dati che conosciamo non sono particolarmente efficaci e proprio per questo sono state inserite nelle collection di Java delle classi appositamente per poter implementare delle code prioritarie. Quindi vedete che questo è il diagramma delle classi delle collection di Java, noi abbiamo un'interfaccia queue che dice ok, tutte queste classi implementano questa interfaccia queue, adesso vediamo di quali metodi è composta. Io posso implementare una coda o con una linked list, vedete che linked list è una classe che oltre ad implementare l'interfaccia list, come già sappiamo, implementa anche l'interfaccia queue. L'abbiamo appena discusso, è facile fare una lista FIFO o una lista LIFO usando una lista linkata, una linked list normale. Basta semplicemente inserire in testa, estrarre in testa oppure estrarre in coda o inserire in coda. A seconda di quale combinazione di testa coda uso nell'inserimento e nell'uscita, avrò una coda LIFO o una coda FIFO. Per quanto riguarda invece le code prioritarie, Java ci mette a disposizione una classe che si chiama priority queue appunto, e ci dice usa questo anziché una lista linkata, quindi se devi fare le code LIFO o FIFO puoi trovare una linked list. Se devi fare una coda prioritarie invece c'è questa classe priority queue che la implementa in modo più efficace rispetto a una normale lista. Ed è quella di cui ci occupiamo oggi. Allora abbiamo detto che sia linked list che soprattutto priority queue implementano una nuova interfaccia che si chiama Q. Che cosa offre questa interfaccia? Allora questa interfaccia offre sei metodi che sono riassunti da questa tabellina. Che cosa posso fare in una lista? Posso inserire un nuovo elemento, questo insert qua o add, è la stessa cosa. Posso estrarre un elemento, quindi inserisco un qualunque elemento e nell'operazione invece di estrazione di remove mi fornisce in output l'elemento che ha priorità maggiore, il minimo della coda, quello che ha valore minimo all'interno della coda. E poi esiste un'altra modalità che è chiamata qua di examine che semplicemente mi restituisce l'elemento prioritario ma non lo cancella dalla coda. Ok? Quindi la differenza tra remove e examine che entrambe restituiscono lo stesso elemento ma in più remove lo cancella dalla lista quindi con il remove successivo non verrà, non troverò più quello non troverò un altro, invece con l'examine mi dà la coppia, una coppia, un riferimento a una coppia a quell'elemento ma la lista non viene modificata, la coda non viene modificata quindi la volta successiva quell'elemento sarà ancora disponibile. Quindi queste sono le tre operazioni che vengono offerte da una coda. Queste tre operazioni sono disponibili a loro volta in due varianti. Variante in cui viene, nel caso in cui ci sia qualche problema viene generata un'eccezione oppure variante in cui viene restituito un valore speciale. Quali sono i casi particolari? I casi particolari? Beh, nel caso di una insert in teoria sarebbe possibile che quando cerco di fare insert la coda sia già piena e quindi non ci sta l'elemento che voglio inserire. Ha esaurito gli spazi a disposizione. In realtà la classe priority Q che vediamo noi non ha questa limitazione nel senso che lui va avanti tranquillamente usando la memoria alloccando la memoria che gli serve e quindi non capita mai, in questo caso particolare. In altri tipi di implementazioni io potrei avere un buffer di dimensione finita, di capacità e allora in quel caso ci sono dei momenti in cui non posso fare insert perché il mio buffer è già pieno. Allora qui la differenza è che col metodo add nel caso in cui l'insert non possa avvenire perché la memoria disponibile è già piena genera un'eccezione, nell'altro caso invece restituisce un valore particolare che se non sbaglio è true oppure false per dire se l'operazione ha avuto successo oppure no sulla insert. Su invece la remove è più facile capire quando può dare dei problemi la remove. La remove può dare dei problemi quando io sto cercando di estrarre un elemento ma la coda è vuota. La coda è vuota, ha zero elementi quindi l'operazione di remove non può funzionare, non mi può restituire nessun elemento. Allora sta a me scegliere se usare il metodo remove che nel caso in cui l'elemento ci sia me lo restituisce e nel caso in cui non ci sia lancio un'eccezione e quindi avrò bisogno di un try catch per poter gestire, oppure usare il metodo poll che nel caso in cui l'elemento ci sia mi restituisce l'elemento nel caso in cui l'elemento non ci sia, cioè la coda sia vuota, restituisce null. Essenzialmente la scelta è nostra come stile di programmazione, diciamo che se sto gestendo una coda ricade tra i casi normali il fatto che non ci sia un elemento, perché ho già elaborato tutti quelli che dovevo elaborare quando uno va al pronto soccorso e dice avanti il prossimo si guarda intorno e non c'è nessuno perché deve dare un'eccezione, è un caso normale in cui il valore di ritorno del prossimo è null, non c'è nessuno però sta a noi scegliere, diciamo così l'implementazione di Q, in particolare i paragrafi di Q offre questa dualità di metodi quindi possiamo usare entrambi. Dico per abitudine tendiamo a usare il metodo add per inserire, che tra l'altro è lo stesso delle liste quindi diciamo così ci trova abbastanza, già lo conosciamo, e per estrarre forse è più comodo il metodo poll perché non mi devo gestire un try catch, semplicemente devo controllare però che l'elemento che ho restituito sia diverso da null, ma questo viene bene tipicamente in un ciclo while, avrò while coda.pol e allora questo poll se è null mi fa automaticamente uscire dal ciclo while quindi confronto un valore di ritorno che diventa la condizione per farmi proseguire. Questo chiaramente quando arriviamo al codice lo vediamo, però possiamo usare ciascuna di queste modalità a seconda di come preferiamo. La stessa cosa all'examine, vedere il prossimo elemento, c'è il metodo element che o mi dà il riferimento all'elemento prioritario oppure generale eccezione, oppure il metodo pick che mi istituisce il primo elemento oppure null, un bel null nel caso in cui non ci sia nessun primo elemento e quindi la cosa sia vuota. Tutto qua, diciamo, alla fine questi sono i metodi che vogliamo conoscere e l'interfaccia Q è implementata da molte classi diverse che hanno caratteristiche diverse noi non le guardiamo tutte, anzi non le guardiamo quasi nessuna, molte di queste strutture dati sono state pensate per sincronizzare diverse parti di programma che vanno avanti indipendentemente. Cioè se voi avete un programma complicato con molte parti parallele, molti thread paralleli che vanno avanti ciascuno con la propria elaborazione e hanno bisogno di comunicarsi, di scambiarsi i dati tra di loro, allora un modo, diciamo, abbastanza sicuro di scambiarsi i dati è proprio quello di mandare dei messaggi su una coda. Queste code saranno code che devono essere, diciamo, gestite in modo particolare perché il thread che inserisce un dato è diverso dal thread che estrae quel dato lì e allora devono essere implementate, diciamo, in modo, diciamo così, sicuro per il multitrading e ci sono varie, diciamo così, modalità di gestione di questo, no? Cioè, ad esempio, cosa succede se io per leggere un dato da una coda che è vuota mi speduce nulla e vado avanti oppure blocca il mio thread e così il mio thread rimane in attesa fino a quando qualcun altro dall'altra parte ha inserito dei dati nuovi. Quindi vengono usati come meccanismi anche di sincronizzazione tra più processi o tra più thread diversi. Questa parte ovviamente non andiamo a vedere perché in questo corso noi non trattiamo la programmazione concorrente quindi tutte queste classi, diciamo così, complicate non andiamo a vedere. Ce ne sono alcune che hanno un nome strano che si chiama DEC ho scritto DEC, ma ho pronunciato DEC di solito DEC è la contrazione di double-ended queue cioè una coda con due estremità un DEC è una coda in cui posso inserire da un lato già fatto una coda che implementa contemporaneamente sia le funzionalità FIFO che le funzionalità LIFO quindi posso inserire in testa o in coda, estrarre in testa o in coda alla fine è quello che fa una lista linkata però il DEC di fatto mi dà già dei metodi apposta per fare questa operazione quindi è una lista, una coda bidirezionale ordinata oppure, questa lasciamo stare oppure c'è la nostra classe priority queue che è qua in mezzo, vedete che è la penultima qua che invece andiamo a studiare più in dettaglio la priority queue non fa altro che implementare i metodi che abbiamo visto prima in particolare il metodo add il metodo peak oppure poll c'è anche poll la riferenza sappiamo che è restituisce oppure no l'elemento scusate, il poll ho messo qua perché qui parla di complessità estrarre il primo elemento aggiungere un elemento azzerare la lista e volendo iterare sulla lista stessa ma in realtà è un'operazione che tendiamo a non fare perché io posso iterare su una lista se so che questa non cambia nel frattempo ma una coda è proprio stata pensata per dire man mano che estraggo elementi me ne arriveranno degli altri quindi li devo estrarre in un certo ordine quindi iterare su una coda prioritaria spesso non ha senso perché presumerebbe che io già conosca adesso qual è il contenuto della coda allora a questo punto basta fare un array e metterlo in ordine la coda ha proprio il vantaggio che io posso aggiungere elementi e mentre ne aggiungo un po' ne estraggo un po' e così via e si mantiene sempre questa proprietà di essere in grado di estrarre il primo ecco questa implementazione di questa priority queue ha la proprietà di avere una complessità logdn sia per l'inserimento che per l'estrazione quindi internamente userà una struttura dati simile a un albero di solito si chiama heap questa struttura dati che contiene oggetti di tipo E e li mantiene mantiene questa struttura dati ordinata in modo che ogni volta che io vado a estrarre o consultare col pic oppure col poll il primo elemento mi dà sempre il minimo l'elemento di valore minimo e vedete che questo minimo me lo restituisce in tempo costante quindi vuol dire che la struttura dati internamente sa sempre qual è il minimo di fatto implementa i dati memorie dei dati come un albero dove nella radice dell'albero c'è proprio il valore minimo dirmi qual è il valore minimo quindi un'operazione a costo costante non deve scandirsi gli elementi chiaramente dopo che tolgo il minimo dovrò un attimo riorganizzare gli altri elementi successivi per trovare qual è il prossimo e quindi la riorganizzazione dell'alberello quando aggiungo un elemento o quando lo tolgo ha un costo all'ODN perché c'è un logaritmo ma perché se io dispongo gli elementi ad albero il numero di livelli dell'albero è pari al logaritmo se l'albero è ben bilanciato è pari al logaritmo del numero di elementi in totale quindi è una struttura dati molto efficiente che fa questo lavoro fa solo questo se noi vogliamo memorizzare dei dati per mantenerli ordinati per una coda FIFO non ha senso usare questa struttura dati perché basterebbe una linked list che ha ODI1 come complessità se invece devo tener conto di un fattore priorità questa è la soluzione più efficiente che si conosce ovviamente qui stiamo parlando di un minimo minimo di che cosa? minimo del valore degli elementi di tipo E che stiamo mettendo nella coda prioritaria questo mi dice che i valori inseriti nella lista devono essere comparabili ok? devono essere devo aver definito il mio bel comparatore compare to perché è il criterio che la priority queue userà per capire qual è il minimo di questi elementi quindi posso inserire degli elementi purché siano abbiano al solito hash code equals e anche compare to definiti correttamente questo è il prerequisito minimo perché un oggetto possa essere inserito in una coda di tipo prioritaria e devo poterli mettere in ordine devono essere ordinabili questi elementi ok? la struttura dati che viene utilizzata noi non entriamo nel dettaglio di come funziona ma è abbastanza curiosa è una struttura dati che si chiama heap che ha una proprietà molto semplice è un albero in cui il figlio sinistro è il figlio destro dell'albero binario in cui i due figli di ciascun elemento sono maggiori dell'elemento stesso quindi 10 è più piccolo sia di 20 che di 80 cioè i due figli del 10 sono maggiori di 10 quindi e questa proprietà vale chiaramente ricorsivamente per tutto l'albero quindi sotto il 20 ho due nodi che sono 40 e 60 che sono maggiori di 20 sotto il 40 ho due nodi che sono maggiori di 40 sotto il 60 in questo caso un nodo solo che è maggiore di 60 e così via con questa proprietà vedete che l'albero non è ordinato non c'è un ordinamento che mi permette di andare dal più piccolo al più grande visitandolo in qualche modo però la radice è il valore più piccolo sempre maggiore di questo e quale a sua volta è maggiore di quell'altro eccetera quindi la radice è sempre il minimo quando estraggo un elemento che cosa faccio? cancello questo e poi dovrò scegliere tra il 20 e l'80 qual è il minimo il nuovo minimo e ristrutturare un pochino l'albero quindi di fatto rimescolare questo 20 lo porterò su diventerà una nuova radice e a questo punto mi devo chiedere dove mettere questo nuovo albero della parte di 80 provo a agganciarlo qua sotto potrei agganciarlo qua sotto e ci starebbe bene poi c'è tutto un meccanismo per mantenere questa proprietà una proprietà che i figli sono sempre maggiori del padre e evitare che l'albero diventi troppo grande degeneri in lunghezza come vedete questo albero è un albero pieno nel senso che tutto il primo livello è pieno tutto il secondo livello è pieno e il terzo livello è pieno parzialmente perché mi mancano degli elementi quindi un albero ben bilanciato ben compatto e questo è ciò che mi dà la proprietà di complessità logarimica massima quindi se qualcuno è interessato e curioso di vedere come funziona questo stradati andate a cercare gli IP come funzionano l'altro dettaglio carino è che noi la disegniamo come un albero ma in realtà internamente è implementato semplicemente come un vettore in cui ci sarà scritto 10 20 80 40 60 e così via quindi diventa un array list semplice in cui però le operazioni vengono in un certo modo anche lì con il numero minimo di spostamenti quindi quando tolgo questo 10 sposterò un numero di elementi tipo il 20 lo metto al posto del 10 qualcos'altro lo metterò al posto del 20 e alla fine avrò un numero di spostamenti che è al massimo pari al logaritmo del numero di elementi la struttura è molto ottimizzata su questo caso d'uso specifico ci fidiamo che esista ci ricordiamo che gli elementi che vogliamo inserire devono essere chiaramente definiti come elementi che implementano l'interfaccia comparable per poter essere altrimenti non riuscite a creare la lista se non sono confrontabili quindi dobbiamo implementare il comparator nel caso in cui l'elemento volessimo distrire una lista sulla base di un ordine che non è l'ordine naturale quindi non è quello dato dal comparatore compare to allora è sempre possibile creare una nuova priori tq che abbia un secondo parametro che è un comparatore stesso quindi una classe di tipo comparator ricordate sempre che ci sono queste due interfacce che si chiamano in modi antipaticalmente simili comparable è l'oggetto che è in grado di comparare se stesso con altri la comparator invece è una classe che è in grado di confrontare una terza classe che è in grado di confrontare due oggetti di un determinato tipo e quindi permette di aggiungere altri criteri di confronto oltre al criterio di confronto naturale dato dal metodo compare to ricordiamo anche già che ci siamo che compare to deve essere compatibile con equals nel senso che tutte le volte che equals è true compare to deve restituire zero e viceversa altrimenti stiamo andando a caccia di casini se noi dovessimo inserire una coda prioritaria gli elementi che arrivano da un database probabilmente anche compare to dovrà lavorare sullo stesso criterio con cui usa equals cioè la chiave primaria del database che non è detto che sia il dato con cui vogliamo organizzare la nostra priorità e allora a questo punto possiamo tranquillamente definirci un'altra classe comparator che lavora invece su altri attributi che non siano che non siano la chiave primaria essenzialmente ok questa è la struttura dati di cui diciamo così abbiamo iniziato a parlare a cosa ci serve e a cosa ci serve lo vediamo parlando di simulazione ad eventi che è come vi dicevo l'ultimo macro argomento di cui ci stiamo occupando in questo corso simulazione a eventi discreti che è una delle tecniche possibili per affrontare la risoluzione di un problema noi abbiamo visto una risoluzione di tipo esaustivo con la ricorsione cioè ho un problema ma cerco tutte le possibili soluzioni possibili immaginabili e trovo quella ottima ma spesso quella ottima abbiamo purtroppo constatato che richiede un tempo di elaborazione diciamo così non accettabile e allora ci sono altri modi di affrontare i problemi tipicamente quando uno ha un problema diciamo così decisionale deve valutare tra diverse alternative allora sarebbe bello poter dire io ho un modello perfetto ho i parametri di questo modello e le ottimizzo esattamente questi parametri in modo da ottenere la soluzione ottima e questo ovviamente non si può fare sia perché appunto il calcolo di questa soluzione ottima richiederebbe un tempo spropositato sia anche perché il modello che uso spesso è approssimato e quindi magari una soluzione ottima di quel modello ma non della realtà la complessità dei fenomeni reali è tale per cui i modelli che usiamo ne catturano solamente una piccola parte sono più astratti sono più semplificati e complicare il modello poi alla fine non è detto che lo renda più aderente alla realtà non voglio raccontarvi troppi aneddoti ma mi ricordo già più di una volta la tipica crisi che c'è sempre quattro volte all'anno al Politecnico è sugli orari delle lezioni sugli orari degli appelli che quando esce il calendario disastro fa schifo non funziona ci sono sovrapposizioni eccetera eccetera perché viene fatto a mano già più volte ho già assistito a dei tentativi di dire no no ma automatizziamo facciamo un algoritmo che mi calcoli l'orario automaticamente e tutte le volte che è stata provata questa operazione alla fine l'orario che usciva fuori era molto peggio rispetto a quello che veniva fatto tradizionalmente a mano con poi pubblichi trovi i bacchi li correggi cerchi di risolverli eccetera eccetera perché il problema è talmente complicato vincolato studenti che hanno più corsi professori che hanno più corsi limiti delle aule la capienza eccetera minimizzare gli spostamenti le trasformanze da una all'altra non avere un'ora che ne so in corso duca e l'ora successiva a mirafiori eccetera fanno sì che i vincoli siano talmente tanti che un algoritmo crede di aver trovato un ottimo e poi quando vai a vedere quell'ottimo vedi che dal punto di vista della singola persona magari si deve fare 18 ore di fila in un giorno eccetera eccetera e quindi a volte si preferisce costruire delle possibili soluzioni e valutare quanto sono buone attraverso dei meccanismi che sono appunto di simulazione cioè costruiamo un modello e proviamo a giocare sperimentare con questo modello per vedere che cosa ci tira fuori quali dati emergono e io provo facendo un esempio stupido dell'orario con un certo orario e lui mi dice guarda con questo orario qui il numero di studenti che si spostano è 12.000 il numero di studenti che fanno troppe ore al giorno è tot il numero di studenti che devono venire per una lezione sola è tot e mi danno delle metriche sulla soluzione che ho proposto ragiono su queste metriche e provo un'altra configurazione provo a modificare qualcosa e migliorare e lui mi simula l'effetto di quello che è la mia scelta quindi in un algoritmo di simulazione non è il sistema che mi dice qual è la soluzione sono io che propongo una soluzione e l'algoritmo mi aiuta a capire la bontà o meno quindi i punti di forza i punti di debolezza della soluzione che ho proposto questo soprattutto per sistemi che sono relativamente facili da modellare quindi capire come evolvono ma molto più difficili da invertire quindi partire dall'output e tornare qual è l'input ottimo che mi permette di ottenere un certo output non ho bisogno di modellare un sistema di equazioni che vi dia il minimo ho bisogno semplicemente di implementare qualche cosa che mi simuli il comportamento del sistema e con questo meccanismo provo diversi scenari e valuterò alla fine qual è lo scenario migliore qual è lo scenario più adatto mi serve quindi per fare delle valutazioni di tipo what if allora ho io un sistema cosa succederebbe se cambiassi questo se modificassi un parametro allora vado a vedere qual è l'impatto sull'output chiaramente i sistemi tutti umani sono sistemi non lineari non è che se raddoppi l'input raddoppi l'output ma se modifichi l'input il sistema magari si comporta in un modo completamente diverso e in modo non intuitivo e quindi in qualche modo ho bisogno di uno strumento che mi permettano di analizzare diversi scenari in un modo relativamente semplice quindi noi abbiamo varie ipotesi varie scenari varie soluzioni possibili che vogliamo proporre al sistema e abbiamo un algoritmo che a fronte di un certo scenario mi dice guarda se tu mettessi in campo questo scenario reale quindi questi valori di parametri avrai certi risultati ovviamente lo scenario va definito in termini di variabili di valori di dati e i risultati anche qui vanno misurati decidendo quali sono delle grandezze quantitative che voglio andare a osservare a misurare e quindi cosa succede che ci sarà poi una persona qui c'è uno user non c'è un algoritmo c'è una persona vera che va a valutare questi risultati e eventualmente modifica i scenari li adatta li valuta e così via rispondo al commento di Francesco che mi dice sul problema degli orari che in enti più grandi del Politecnico è impossibile farlo anche a mano e sì e no nel senso che poi esistono esistono intere conferenze di ricercatori che si occupano del problema del timetabling di fare gli orari quali siano gli algoritmi migliori per fare gli orari e questi di solito sono conferenze dove vanno di ricercatori di ricerca operativa che proprio studiano quali sono algoritmi che mi permettono di ottenere l'ottimo non iludiamoci nel mondo reale di voler raggiungere l'ottimo quindi uno non è detto che un algoritmo veramente ci metta meno che non farlo a mano perché soprattutto perché avere l'ottimo assoluto non interessa a nessuno nel caso reale nei casi reali tutti i giorni voi siete gestionali avere l'ottimo assoluto di qualche cosa non interessa interessa avere una soluzione buona accettabile compatibile con i vincoli buon poi una è un po' migliore di un'altra o è un po' più rapida un po' più veloce ma la soluzione devo averla in tempi ragionevoli devo saperla gestire devo saperla modificare facilmente perché poi se capita qualche variazione e devo aggiustare questa soluzione questa soluzione mi è stata generata di botto da una macchina che magari ha lavorato una settimana se io devo modificare un parametro devo cosa faccio riottimizzo tutto da capo e quindi mi salta fuori un risultato completamente diverso da quello di prima non è accettabile nel mondo reale io devo avere un sistema in cui posso anche agire a posteriori per fare dei piccoli aggiustamenti e voi lo sapete che se io prendo un sistema che anche avesse la soluzione ottima e se faccio un piccolo aggiustamento a fronte chiaramente di mutate condizioni di ingresso la soluzione che ottengo non sarà più ottima ma non importa nel senso che l'importante è che la soluzione sia ancora accettabile nel senso che rientri nei vincoli progettuali che mi sono dato di tempo risorse capacità eccetera eccetera quindi ciò che si fa è spesso di se torniamo all'esempio nostro dell'orario di accettare a priori che non terremo mai nessun ottimo e partizionare il problema quindi il problema vuol dire che i gestionali si fanno il loro orario gli informatici si fanno il loro orario i meccanici si fanno il loro orario poi si parlano per vedere di non aver fatto sovrapposizione il primo anno si fa il suo orario e quindi anziché trovare risolvere un problema unico di ottimo globale si risolvono 3, 4, 5, 17 problemi di ottimo locale che poi in qualche modo si intrecciano perché usano le stesse aule e quindi non possono tutti dire ok c'è lezione lunedì mattina alle 8.30 di tutti i corsi possibili immaginabili perché non ci sono tante aule così e quindi in qualche modo dovranno ciascuno avere dei vincoli anche lì non sono ottimi si dice a ciascuno corso di laurea tu non puoi occupare più di 5 aule contemporaneamente dico un numero a caso poi magari in un certo orario l'unico potrebbe occupare 7 perché quell'altro ne sta occupando solo 4 e quelli sono i vincoli che poi vengono verificati a mano mettendoci insieme però tu ottimizzi n problemi più piccoli un po' divide timpera della ricorsione però fatto a livello organizzativo quello che ti serve è avere qualche cosa che mettendo insieme tutto ti faccia scoprire facilmente se stai superando dei vincoli se stai superando dei limiti e cose di questo genere noi purtroppo dobbiamo un po' usare diciamo così metodi esatti metodi matematici come guida ma non sono loro che ci permetteranno di risolvere i problemi di tutti i giorni quindi purtroppo dobbiamo fare i conti con la realtà ma anche perché lo ripeto ancora una volta qualunque modello matematico che vi facciate non riesce mai a rappresentare tutti i vincoli di cui ho bisogno e non riesce mai a rappresentare tutti diciamo così i fattori di qualità tutti i KPI tutti diciamo così i fattori in base ai quali valuto quale sia la bontà di un risultato come fa un modello dire se è meglio avere tre ore di lezione di fila oppure due ore per una pausa più un'ora staccata sono io che lo decido metto dentro i coefficienti arbitrariamente però quel modello lì di nuovo è un modello che ho taroccato per far venire in un certo modo non rappresenta una tra virgolette realtà oggettiva da ottimizzare nei sistemi umani e sociali è sempre così quindi se da un lato c'è il mondo esatto vado giù ricorsione trovo l'ottimo trovo una soluzione e ci sono altri diciamo così metodi in cui magari non mi interessa o non sono capace ma neanche di definire quale sia l'ottimo figurati di trovarlo ma ho bisogno di poter esplorare facilmente varie soluzioni e per questo una delle strade possibili è quella di fare delle simulazioni e di fatto si va a costruire un programmino ad hoc per quella situazione e si cerca di capire attraverso un programma attraverso questo programma come può evolvere quella soluzione poi ovviamente il giudizio finale ce l'avrà l'utente ce l'avrà l'uomo ce l'avrà qui c'è il manager voi volete fare il manager e quindi a qualche modo dovete tenervi un po' di lavoro non potete farvi sostituire da un ottimizzatore dal metodo del simplesso io ho il simplesso non mi serve più il gestionale no no non funziona così per fortuna vostra è chiaro che anche qua è un'arte riuscire a trovare il bilanciamento giusto ma una volta capito questo principio io poi lo posso fare in qualunque modo nel senso che è un foglio di calcolo anche solo excel metto dei dati vado a vedere cambiando certi dati di ingresso come cambiano i dati in uscita è chiaro che è un modello che ha una certa possibilità di calcolare che insomma anche solo sul discorso dei bilanci funziona quella parte di simulazione economica poi esistono anche degli strumenti software diciamo così ad hoc che sono stati sviluppati apposta per poter fare questo tipo di operazioni qui abbiamo raccolto un po' di sigle in realtà io non ho mai avuto esperienza con nessuno di questi prodotti oppure me lo posso fare da solo impariamo a farcelo chiaramente con i limiti da solo in java quindi capire come potrebbe essere l'approccio per costruire un nostro simulatore quindi noi abbiamo un fenomeno che vogliamo cercare di gestire o progettare al meglio e ci costruiamo uno strumento che ci permetta di giocare con questo fenomeno di provare a cambiare i parametri di ingresso e vedere come valutano i parametri di uscita questi tipi di simulatori possono essere di tipo deterministico e quindi ogni volta che fornisco gli stessi parametri di ingresso otterrò gli stessi risultati di uscita oppure molto più probabilmente saranno modelli di tipo stocastico nel senso che ogni volta che fornisco dei parametri di ingresso internamente il modello avrà un suo comportamento randomico statisticamente variabile e quindi ogni volta che fornisco certi valori di ingresso otterrò dei valori di uscita che possono essere diversi che tengono conto perché deve essere stocastico perché deve essere deterministico il modello ma perché la casualità in qualche modo mi compensa la incertezza o la non conoscenza della realtà io non conosco esattamente un determinato valore adesso si fanno tutti questi bei modelli ma non voglio fare gli esempi del covid perché ne abbiamo fin sopra i capelli però immaginiamo anche un modello di produzione io prevedo che il mese prossimo produrrò il 10% in più o venderò il 10% in più però 10 non è un numero 10,0000 è la mia previsione poi magari sarà 9, sarà 8 magari sarà 11 e quindi il mio modello è più robusto se io lo faccio viaggiare con dei numeri che hanno una fluttuazione statistica faccio una simulazione ottengo un valore rifaccio la simulazione otterrò un valore diverso perché internamente i coefficienti hanno assunto dei valori diversi che simulano i diversi sottoscenari su cui di fattori su cui io non ho il controllo diretto e allora andrò a vedere facendo più simulazioni diverse se l'output è abbastanza robusto nel senso che alla fine i risultati finali anche con le fluttuazioni statistiche interne al modello danno dei risultati comunque accettabili quindi i modelli sottocattici mi servono sia appunto per modellare una imprevedibilità derivata da fattori esterni cioè le mie vendite non dipendono da me dipendono dai miei clienti e se i clienti dicono di comprare di più o di comprare di meno è un fattore esogeno su cui io posso fare delle previsioni ma non ho il controllo esatto quindi sarebbe sbagliato avere un numero secco o anche da controllo da fattori endogeni cioè la mia produzione magari c'è un c'è un intoppo mi cresce il server tanto per fare esempio del Politecnico e quindi ciò che prevedevo di fare oggi non riesco a farlo e quindi sarò in ritardo e dovrò farlo domani eccetera e quindi avrò dei fattori dati dall'imprevedibilità anche della gestione delle cose è chiaro che un modello deterministico è più facile da scrivere è più facile da implementare e un modello stocastico sarà più complesso anche perché poi devo anche immaginarmi quali sono le distribuzioni statistiche dei vari eventi per farlo bene ma mi darà dei risultati che magari sono più realistici più affidabili più robusti e c'è uno spettro infinito io posso fare sempre io posso partire da una cosa semplice e poi via 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 aggiungere dei fattori in più creando il modello sempre più sofisticato sempre più adatto sempre più preciso il trucco è quello chiaramente di non puntare subito sulla cosa più complicata di tutte partiamo da qualcosa di semplice poi se ci accorgiamo che è troppo sempliciotto in certi aspetti quindi in certi tipi dei soluzioni che mi fornisce ma allora aggiungiamo dei fattori in più la seconda famiglia macro distinzione è tra i modelli statici e i modelli dinamici di fatto quello che riesco a fare diciamo così con Excel sono modelli essenzialmente statici ho dei dati e mi fa dei calcoli e mi dà delle uscite nei sistemi più complessi invece il fattore tempo è un fattore determinante quindi ho degli eventi che si succedono durante il tempo e questa evoluzione nel tempo del sistema chiaramente cambia gli output ma può anche influenzare a loro volta gli input quindi non posso avere una fotografia una vista statica ma devo semplicemente ogni variabile del modello viene declinata sulla serie di tempi devo vederne l'andamento nel tempo e poi va bene il valore finale però io non posso stimare come si comporterà il sistema al tempo t se non ho prima stimato come si comportava al tempo t-1 al tempo t-2 e così via devo per forza seguirlo nell'evoluzione temporale altrimenti non ho quasi mai il lusso di dire scrivo delle equazioni differenziali e alla fine mi da la soluzione che mi da tutti i valori al tempo t qualsiasi no me lo devo andare a calcolare simulare vedere passo passo che cosa succede e questo passo passo può essere o un passo passo continuo quindi una variabile tempo continua oppure molto più frequentemente una variabile tempo che discretizziamo se io simulo l'andamento della produzione magari non mi interessa sapere la produzione ogni singolo secondo della giornata magari mi interessa il valore di produzione giorno per giorno oggi domani dopodomani e quindi discretizzo il mio tempo in termini di giornate se vado a vedere che ne so aspetti demografici della popolazione probabilmente mi interessa il dato una volta all'anno non una volta al giorno o forse una volta al mese se voglio tener conto di effetti di stagionalità ad esempio quindi si rinuncia a pensare al tempo come una variabile continua e si sceglie un'unità di misura e si dice va bene allora noi accettiamo di osservare e modellare il comportamento del sistema solamente in certi istanti di tempo staccati distinti separati e tra uno quindi il nostro asse del tempo non sarà un asse del tempo così ma sarà un asse del tempo così ok e questo è un istante di tempo che vedo che modello che mi interessa il tempo 3 qui ho il tempo 5 qui ho il tempo 11 in mezzo non succede nulla non esiste il tempo intermedio non posso neanche interpolare in mezzo ma cos'è successo 6 non esiste 6 nel mio orologio non esiste la lancetta fa uno scatto da qui a qui in mezzo non è mai passata non è mai esistita e io ho delle istantanee delle fotografie istantanee del comportamento presunto simulato del sistema solamente a certi istanti di tempo in mezzo non mi curo di quello che succede presumo ovviamente nel mio modello presumo che lì in mezzo non succeda nulla di interessante nulla che avrei voluto barra dovuto modellare Francesco mi chiede se in questi algoritmi è utile l'intelligenza artificiale anche sicuramente soprattutto per magari andare a impostare quelli che possono essere dei parametri di questo modello che siano più realistici possibili a volte l'intelligenza artificiale cerca di direttamente trovarmi la soluzione o una configurazione buona a partire da molti esempi che ha già visto il problema dell'intelligenza artificiale non è tanto applicarla ma è addestrarla perché poi ci sono dei metodi statistici che non fanno altro che cercare di capire delle dinamiche ripetitive quando ho visto tante volte una certa situazione allora questa rete neurale profonda tutte queste belle cose complicate alla fine mi trova una soluzione che è tanto migliore quanto il problema che gli sto ponendo di fronte è simile a quelli che ha già visto in passato di cui però gli ho dovuto dare la soluzione non impara da solo quindi in qualche modo le simulazioni possono anche essere usati come addestratori per l'intelligenza artificiale la quale poi a sua volta può cercare di entrare a parte del modello quindi qua è un ambito che noi tocchiamo solamente la superficie ma dentro si può e si deve rendere molto più complesso se poi qualcuno di voi con un po' di simulazione riesce a diventare a prevedere che il mercato in borsa diventare miliardario me lo dice ci mettiamo d'accordo su come dividere le vincite allora ciò che studiamo in tutto questo ampio problema ciò che studiamo noi è la simulazione ad eventi discreti quindi la simulazione di sistemi dinamici variabili nel tempo in cui il tempo quindi sia la variabile principale non solamente una tra le variabili quindi ho un sistema che io modello nella sua evoluzione temporale dove questo tempo sia un tempo discreto ok qui non non cadiamo nel continuo quindi non andiamo a fare equazioni differenziali equazioni differenze finite eccetera quindi ci allontaniamo da quelli che sono i sistemi più prettamente numerici se fate controlli automatici se fate diciamo così calcoli usando modelli anche meccanici con matlab eccetera lavorano molto sul tempo continuo andare a fare integrazione di ciò che succede nel sistema fisico quello è un altro dominio sicuramente è un dominio di simulazione simula un veicolo in curva e lì ho bisogno dell'accelerazione delle forze che sono quantità continue eccetera e quindi ho bisogno di certi tipi di modelli matematici noi qui non ci andiamo a buttare nella matematica e proviamo a simulare dei sistemi gestionali in cui non ci sono leggi della fisica ma ci sono dei comportamenti che vogliamo in qualche modo modellare e noi per semplicità li modelliamo in un modo tempo discreto ok dipendente dal tempo come tutti i sistemi gestionali gestionali bar organizzativi e ci accontentiamo di fotografare il tempo in certi istanti discreti poi per noi sarà abbastanza semplice modellare sia sistemi deterministici che sistemi stocastici e in un tempo discreto non succede mai nulla a meno che siamo in uno degli istanti di tempo esistenti quindi il tempo esiste solo possiamo dire in due modi possiamo dire che quando il tempo esiste quando l'istante di tempo esiste può succedere qualcosa altrimenti non può succedere nulla perché non esiste quell'altro istante di tempo ma se lo diciamo il contrario stiamo anche dicendo che al sistema può succedere qualcosa quindi possono variare delle variabili del sistema solo in corrispondenza di questi istanti di tempo il fatto che le variabili del sistema cambino valore assumono un valore nuovo noi lo chiamiamo un evento all'interno del sistema qui noi abbiamo un sistema che va avanti a salti temporali e questi salti corrispondono agli istanti di tempo in cui avviene qualcosa all'interno del sistema in cui si verificano degli eventi eventi che possono essere eventi che provengono dall'esterno eventi che possono essere eventi generati dal sistema stesso e magari generati che verranno generati o programmati per un tempo futuro pensate una cosa stupida un lavaggio macchina ok avete il sistema in cui entrate fate la coda al sabato per andare a lavare l'auto e qui ci sono i rulli che vi lavano la macchina intanto cui la vostra macchina arriva può entrare qui c'è un'auto che aspetta qui c'è un'auto che è dentro e qui c'è la coda dell'auto che aspettano allora io ho degli eventi che sono eventi che arrivano dall'esterno cioè il fatto che arriva una nuova auto questa può arrivare quando vuole quindi avrò una distribuzione statistica che non so Poisson o cose di questo genere che mi dice con quale tasso arrivano le nuove macchine per farsi lavare poi in realtà non è vero perché Poisson è una figata perché ti modella un tasso di arrivo arbitrario eccetera e dopodiché tu lo sai che se vai alle 11 del mattino o alle 4 del pomeriggio è più probabile che ci siano altre auto che vanno piuttosto che non magari alle 13 quindi in realtà questa distribuzione è una distribuzione che matematicamente si potrebbe modellare bene ma nella realtà noi avremo probabilmente una curva di questo genere che ci dice qual è la probabilità di arrivo di una certa auto nell'autolavaggio e quindi magari se voglio posso modellare il fatto che in alcune ore arriveranno più auto e in altre ore ne arriveranno meno statisticamente magari posso anche prendere dati statistici passati del passato oppure posso essere molto più grezzo e dire senti è aperto dalle 8 del mattino alle 19 e ipotizziamo che la probabilità di arrivo sia uniforme è un'approssimazione molto più grezza come sempre devo poter sia fare qualcosa di semplice per essere veloce ad implementarlo sia anche avere la possibilità invece di seguire gli andamenti reali però l'evento esterno arriva un'auto all'autolavaggio e poi in realtà nel momento in cui arriva un'auto quest'auto prima o poi dovrà entrare nell'autolavaggio e prima o poi dovrà uscire allora questi sono eventi che sono gestiti dal sistema stesso nel senso che quando i rulli hanno finito quest'auto esce e questo non è determinato da qualcosa di esterno è determinato dal sistema che ha finito il ciclo di lavaggio quindi questo evento auto esce è un evento generato dal sistema generato perché? ma perché quest'auto era entrata e perché ho generato l'evento entra ma perché prima l'auto è arrivata e quindi ho una serie di eventi che partono dall'arrivo di un'auto quest'auto arriva poi magari prima o poi farà la sua cosa entra nei rulli e poi uscirà da questi rulli ogni volta che succede qualcosa io diciamo così simulo il sistema nell'istante in cui ciò avviene in tutti i tempi intermedi in tutti intervalli di tempo intermedio non mi interessa simulare il sistema quindi anche tutta la parte dinamica del lavaggio lavore asciugare risciacqua eccetera non mi interessa in questa simulazione se mi interessasse chiaramente a fare una simulazione più raffinata dove ci sono degli eventi del tipo inizio lavaggio inizio insaponatura inizio asciugatura eccetera eccetera ok quindi siamo noi a decidere a quale livello il dettaglio modellare il sistema sia in termini di dati sia in termini di tipologie di eventi e quindi decidiamo noi quali sono gli eventi che ci interessano innanzitutto il sistema lo stiamo modellando come una serie di eventi che avvengono nelle varie parti del sistema stesso quindi non con modelli diciamo così lineari o non lineari continui ma semplicemente con eventi elenchiamo quali sono gli eventi che mi interessano e in automatico avendo definito gli eventi che mi interessano tutto il resto non mi interessa più e tutti gli istanti di tempo in cui questi eventi non si verificano non esistono per me quindi sto tagliando fortemente ovviamente però questo mi permette di modellare il sistema semplicemente in termini di come reagisce di fronte a un evento quali eventi può ricevere e quali eventi internamente può generare in conseguenza di eventi precedenti che ha ricevuto oppure ha generato nel passato se noi simuliamo un sistema di questo genere nel tempo è abbastanza naturale che questi eventi dovranno essere simulati gestiti in ordine di tempo crescente cioè non ha senso simulare l'uscita di un'auto prima che questa sia entrata o viceversa prima deve entrare poi deve uscire quindi questi eventi che possono arrivare dall'esterno possono essere generati internamente quando vengono elaborati dovranno essere sicuri di elaborarli in ordine temporale per mantenere la causalità del comportamento del sistema per questo usiamo una coda prioritaria cioè ciascuno di questi eventi avrà dentro sicuramente l'informazione temporale questo evento avviene al tempo t questo evento avviene al tempo t2 possono essere generati in momenti diversi ma nel momento in cui lo considero lo valuto dico che io so che quest'auto prima o poi dovrà entrare quest'altra auto prima o poi dovrà entrare io so che dovrà entrare al tempo 10 questo dovrà entrare dopo due minuti che la precedente è uscita io ogni evento di quelli che devono ancora succedere nel futuro dovrà avere una marcatura temporale che dice quando questo avverrà e ogni volta che devo simulare qualcosa andrò a chiedermi qual è il prossimo evento che succederà e quindi dopo che ho simulato questo evento mi chiederò guarda ci sono ancora questi due eventi questo e quest'altro quale devo simulare per primo cioè l'effetto di quale degli due eventi che mi rimangono devo simulare per primo beh quello che avrà la marcatura temporale più vicina e quindi simulerò questo poi ovviamente nel simulare questo può darsi che vengano creati altri eventi sia nel futuro più lontano sia anche magari prima del prossimo evento non so dipende che cosa sta succedendo che cosa sto simulando nel mio sistema ciò che è certo è che io ho buttato via tutto ciò che non mi interessava cioè tutto ciò che non è un evento all'interno di un sistema e l'evento lo definisco come cambia una variabile cambia un valore cambia qualcosa all'interno del sistema questi eventi possono arrivare dall'esterno in qualunque momento possono essere generati dal sistema quando quando sto elaborando eventi precedenti perché quando non sto elaborando un evento il mio sistema non c'è non esiste qua in mezzo non esiste nulla ok quindi tutto succede solamente in questi punti quando elaboro un evento ne posso generare di nuovi che mi stanno a modellare quali sono le conseguenze di aver fatto una certa azione se io faccio un'azione come conseguenza ce ne saranno altre nel futuro e le vado a metterli e poi quando ho finito di elaborare un evento le conseguenze di un evento mi chiederò qual è il prossimo evento che devo elaborare beh tra quelli che ho previsto che sarebbero successi il più vicino non ha senso andare a simulare un evento futuro quando quello precedente appunto non è ancora stato simulato anche perché il sistema si troverà in un stato diverso allora questa cosa la possiamo riassumere in una figura di questo genere in cui noi abbiamo la struttura dati principale che per noi sarà una lista prioritaria una coda prioritaria che mantiene una lista di eventi lista nel senso di coda prioritaria il simulatore ogni volta che è libero che ha finito di fare il lavoro precedente chiede a questa lista dammi il prossimo evento da simulare noi sappiamo della coda prioritaria mi darà quello che è il tempo minimo la variabile tempo minima dentro poi con questo evento fa i suoi conti fa le sue simulazioni e nel fare i suoi conti quindi valuta qual è la conseguenza di quell'evento può generare degli eventi nuovi ok e questi eventi nuovi andranno a finire a loro volta nella coda degli eventi e quindi è un sistema che si autoalimenta da solo poi in realtà ci sono anche degli eventi che possono arrivare dall'esterno come input quindi arrivano nuove richieste arrivano nuovi clienti arrivano nuovi eccetera che vanno a loro volta direttamente a popolare questa lista degli eventi quindi ho degli eventi esogeni che arrivano dall'esterno degli eventi endogeni che sono semplicemente l'evoluzione del sistema stesso ogni volta che richiedo un nuovo evento sto facendo avanzare il tempo dal T1 a T2 dal tempo in cui mi trovavo nell'evento precedente salto direttamente al tempo dell'evento successivo la marcatura temporale dell'evento successivo e cosa vuol dire che il simulatore lavora? il simulatore modellerà un sistema che sto descrivendo attraverso un insieme di variabili io lo chiamo lo stato del mondo il mio mondo per me che cos'è? è le variabili che mi interessa considerare del sistema che sto simulando quindi nel caso dell'autolavaggio l'informazione è lo stato del mondo mi dice se attualmente c'è un'auto in lavaggio sì o no e quante macchine ci sono in coda in questo momento e magari c'è un'altra variabile che mi dice se il sistema ha dei guasti oppure no e quindi magari posso simulare il fatto che abbia dei guasti e vedere le conseguenze sulle code eccetera eccetera e ogni volta che elaboro un evento beh se questo evento è del tipo un veicolo ha finito il lavaggio allora la variabile che mi dice se c'è un'auto in lavaggio sì o no diventa da sì diventa no e viceversa e quindi lo stato del mondo mi dice contemporaneamente in lettura com'è il sistema in questo momento quali sono le variabili che mi stanno interessando quali sono i loro valori e in scrittura io posso aggiornare lo stato del sistema a seguito di un evento l'auto esce quindi lo spazio adesso è libero ok se lo spazio adesso è libero genera un nuovo evento del tipo entra una nuova auto quando tra 20 secondi il tempo che ci vuole per un'auto andare via e l'altra entrare quando poi ci sarà l'evento arriva entra l'auto allora di nuovo lo stato del mondo passerà da libero a occupato e quando passa libero a occupato può generare un nuovo evento del tipo che è entrato adesso ma tra 5 minuti uscirà perché tra 5 minuti finisce il ciclo di lavaggio e quindi predispongo l'evento per cui anche l'auto uscirà e così via quindi tengo separate quello che è quello che qua chiamiamo lo stato del mondo che è la fotografia a un certo istante di tempo questa è una visione statica adesso se io potessi osservare da sopra con i raggi X il sistema cosa vedrei a tempo fermo a tempo fermo e poi invece la visione temporale l'asse dei tempi ce l'ho qua nascosta in questa lista degli eventi che mi dicono quali sono le cose che succederanno nel futuro e queste cose molto probabilmente ciascuna di esse andrà a modificare lo stato del mondo lo stato del mondo è invece come dicevamo solamente valido in un certo istante di tempo poi sono un insieme di variabili WR sono operazioni di lettura leggi e scrivi cioè per dire che qua ho delle variabili di cui posso fare get e set per andare a a a a a capire no cosa sta succedendo e a modificare le informazioni su ciò che succede questo è il il cuore non il simulatore poi a cosa mi serve tutta questa macchina mi serve per valutare dei scenari degli scenari dicevamo prima e quindi questi scenari saranno parametrizzati in qualche modo cioè io posso avere l'autolavaggio in cui il tempo di lavaggio magari è di 5 minuti oppure posso avere il modello turbo in cui il tempo di lavaggio è di 4 minuti però ovviamente mi costa di più il modello turbo posso avere un impianto oppure due impianti posso avere in parallelo posso avere che ne so uno sconto del 10% se tu vieni dalle 12 alle 14 è un altro parametro e quindi questo qua avrà impatto su quella che può essere magari la distribuzione di arrivo dei vari clienti giocando con questi parametri il simulatore ovviamente terrà conto nella generazione dei nuovi eventi di quelli che sono questi parametri le conseguenze di questi parametri quindi io lancio la simulazione con certi parametri ok ipotizziamo di avere il sistema da 5 minuti però faccio uno sconto nelle ore fuori dal picco per cercare di portare più clienti nelle ore in cui c'è meno coda e alla fine ho delle misure simulo una giornata simulo due giornate simulo una settimana di lavoro con questi parametri e alla fine avrò delle misure chiave che il simulatore deve raccogliere che saranno potranno essere il numero di auto può essere la lunghezza massima della coda la lunghezza massima media della coda il fatturato e altri fattori che mi possono servire per valutare quanto sia buona questa soluzione e quindi alla fine posso giocare a vedere guarda se io prendessi il modello turbo che mi costa tot euro in più a livello di fatturato simulato chiaramente reale non lo so quale sarebbe la differenza perché ovviamente il modello turbo meno tempo riesco a far passare più auto nell'unità di tempo poi magari può anche esserci un fattore che posso mettere di abbandono se voi arrivate lì e vedete che ci sono più di 10 macchine in coda girate indietro cercate un'altra andate in un'altra parte oppure decidete che tutto sommato era ancora abbastanza pulita così l'auto e quindi più è lunga la coda che è una conseguenza di tanti altri fattori allora più sarà alto questo tasso di abbandono o viceversa quindi è una cosa che analiticamente se vi chiedessi scrivete una formula che vi predice il fatturato sulla base di questi fattori e probabilmente lavoreremo tutto il giorno ma non troveremo una formula chiusa semplice che tenga conto di tutto e qual è la distribuzione della lunghezza della coda sulla base della distribuzione degli arrivi delle persone non lo so o siete bravissimi in matematica io no oppure non è detto che riusciamo in termini proprio di equazioni di modello probabilistico di fare i calcoli non lo so fare simularlo invece è banale scriviamo il codice dice ok se if se è maggiore del 50% della probabilità allora succede questo e alla fine della simulazione abbiamo dei numeri fatturato lunghezza della coda il numero di clienti la fidelizzazione tutto quello che vogliamo insomma ci possiamo calcolare e sulla base di questo facciamo varie prove cambio le prove vedo il risultato cambio i parametri di ingresso vedo il nuovo risultato e così via se ci sono dei fattori statistici qua in mezzo stocastici qua in mezzo ovviamente per determinati parametri farò più run più esecuzioni parallele e i risultati oscilleranno un pochino intorno a certi valori e quindi vado anche a vedere quanto rischiano di oscillare e poi decido il simulatore non mi dice cosa fare mi dice se gli ingressi sono questi sulla base delle regole che mi hai dato gli output sarebbero questi prova tu valuta tu e alla fine decidi però hai uno strumento in mano che ti permette di valutare l'effetto delle tue scelte in modo non solamente così intuitivo ma in modo più oggettivo con la chiaramente precisione e qualità che ti può dare il simulatore che hai implementato qui che può essere più o meno complicato a seconda chiaramente della precisione che ti interessa questo è il concetto generale poi ovviamente dobbiamo tradurlo in codice e tutto questo lavoro questa lista degli eventi altro non è che una coda prioritaria di oggetti di tipo evento che ci dobbiamo creare in cui questi vari oggetti eventi avranno come fattore principale sempre la variabile tempo tempo nel senso di local time per capirci quindi tempo effettivo oppure anche un tempo anche lì discretizzato un numero intero mi basta un numero il numero di minuti nell'ora il numero di minuti all'interno della giornata a volte non è a volte mi interessa avere la data esatta la data e l'ora esatta a volte invece mi interessa semplicemente un numero progressivo che mi diano un'idea di quella che è l'ordinamento cioè chi viene prima e chi viene dopo in un certo ordine avrò degli eventi che arrivano dall'esterno quindi mi prepopolano questa lista degli eventi altri vengono generati internamente questo sistema si autoalimenta e io quando è che smetto di simulare o quando la lista diventa vuota quindi non ho più nulla da fare non ci sono più cose da fare oppure dopo un certo tempo simuliamo il comportamento del sistema per 48 ore poi magari questo sistema avrebbe ancora degli eventi in sospeso ma io decido va bene osservo 48 ore e vedo che cosa succede in 48 ore quindi le condizioni di terminazione può essere diversa e ovviamente questi eventi io qui ho lasciato una scatolina vuota perché questi eventi possono avere oltre che l'informazione sul tempo anche altre informazioni ne so che tipo di auto era che modello era nel simulatore delle auto non è che si possono che tipo di lavaggio richiesto perché magari quell'autolavaggio è il lavaggio veloce il lavaggio completo eccetera eccetera e quindi è un'informazione utile che mi serve sia per valutare il fatturato quindi l'output finale sia anche per generare gli eventi perché se io ho scelto il lavaggio full magari non sono 5 minuti ma sono 7 se io ho scelto il lavaggio fast magari sono solamente 5 o 4 o 4 minuti e questa è un'informazione che è associata a ogni singolo evento ogni singolo evento perché devo ricordarmi che cosa lui ha scelto quando si è messo in coda per poi poter applicare il ritardo temporale opportuno quando simulo il suo passaggio allora da questo concetto passiamo all'implementazione quindi quali sono le classi java che ci servono a livello diciamo così di organizzazione generale per poter far funzionare un sistema di questo genere ok quindi sappiamo già che ci sarà una coda prioritaria questa coda prioritaria lavorerà con degli oggetti che chiamiamo eventi e questi oggetti saranno ordinati sulla base del tempo sappiamo già che ci saranno delle variabili che ci permettono di modellare quello che ho chiamato prima lo stato del mondo quindi lo stato interno del sistema e quello che evolve di cui stiamo modellando l'evoluzione evoluzione significa cambiare valori di variabili non dobbiamo immaginarci cose complicate semplicemente certe variabili stanno cambiando nel tempo ovviamente che cos'è un evento e quale siano le variabili che fanno parte del modello del mondo dipende di caso in caso ci dobbiamo costruire ma alla fine sono concetti che ci sono ci sono sempre e poi ci sarà un meccanismo diciamo così di evoluzione di questa simulazione ad eventi discreti che sarà praticamente sempre lo stesso che è quello che andiamo a studiare dopo l'intervallo quindi ci facciamo una paura cerchiamo di digerire questo nuovo approccio alla soluzione dei problemi e dopo l'intervallo tra 15 minuti entriamo nel codice e possiamo cominciare a costruire un primo simulatore vedere quali sono le classi principali che lo compongono e poi effettivamente provare a calcolare qualche risultato utile su qualche esempio di qualche qualche esempio diciamo così che faremo insieme avete già visto che la la il progetto che ho che ho pubblicato è un progetto sul sul noleggio auto ok quindi andremo a simulare un esempio almeno iniziarlo se ce lo facciamo se non ce lo facciamo completarlo di simulazione di un di un'attività che noleggia delle auto a dei clienti e quindi dovrà dimensionare il parco auto che ha a disposizione per cercare di massimizzare la soddisfazione dei clienti e alla fine il fatturato della sua azienda ce ne occupiamo tra 15 minuti alle 10.25 quindi possiamo adesso farci un po' di pausa e poi tornare diciamo così a entrare sull'implementazione di questo tipo di simulatori se non ci sono domande quindi ci rivediamo tra 15 minuti